Un'estensione, un'inclinazione, un'estensione, la terza volta facciamo un'inclinazione, torno, un'inclinazione, un quarto di giro, torno, spagno, un'inclinazione, torno, un'inclinazione, passo bene il diagonale, cambio la testa, tutte e due le spalle, poi torno, poi stretching, tiro una lunga a schiena, destra e sinistra poi, eccetera. Ok? Vai, presbarra, con due mani alla sbarra, una bella rotazione bianca, l'impiedita per terra, l'appoggio totale, i tre punti che vi avranno comunque già insegnato, impia le mani dalla sbarra, sento testa dritta, dritta, esatto, scapole delle mie piante, esatto, mi sento bene lunga, 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 lunga le braccia, che sono varie, attenzione, appoggia la sbarra, e un bel dasteramico, circolazione, spento la pericolazione, certificates, 然後 di giro, cerco di tenere bene la marchio a schiena, sicuro, e collo del piede, collo del piede, trezze quattro spingo il collo del piede rileve posa a sinistra la porta a destra e basta qui al dedo di conduzione al dedo e spingi 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 sguardo e cos'è il terreno e spingi cerco di tenere la gamba ferma alle dalle alle dalle spingi 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 chiudo il piede ruolo del piede, allungo bene la schiena, allungo a sinistra, allungo a sinistra, allungo allenato, 5, cerco di vedere bene, la gamba ferma, 7, 8, e mezza spinto, mezza spinto, mezza spinto, chiudo, piede, spinto il piede, il resto un attimo di balance, taccio in prima, e lo facciamo dietro, pulso, e ricomincio a mettere la luce a parte del caldo, faccio il rapporto, va a monta di la carriera, vai, tengo bene la gamba ferma, si ande da, attenzione adesso, mezza lungo, mezza lungo la gamba, mezza lungo, mezza lungo, qui zè non viene vienebbina terera, con la schiena, se a sinistra, eita avrea etza, tus palando dir Revelation 7. lugoodi, 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 lugo, vrei, che Milano cheona 16 per saperna droenne, vento,cano r inclusive experi hiutitella, faccio film sanat alla gamba, ce mil fiction suori, Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Mi giro anche lateralmente, cerco di sentire il ginocchio sopra il ginocchio. Si ritorno, recupero e cambio gaffa. Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Stretto, posi e guarderà, elegante, torno, puntando le spalle e davvero indietro. Vieni ragazzi, cominciamo con la schiena oggi. E facciamo sempre, come è solito, tutti i piedi allungi. E facciamo un'inclinazione, uno, e due. Con un demi-clie, tre. Ammontilisco la schiena, ma non vado in su con le spalle. E quattro. Vi ha un clie, cinque, sette, sette, otto. Stacco il braccio nella scena piatta. Allungo la stia piatta. Vi vado senza andare indietro e sedere. Vado, vado tendo le glutei. Torno. Un piccolo, e vedere, acgenerationo, pigli i braccio agli suoi rimasidi. Posso andare, mant Provostكان. uguale uno torno grandi e grandi due con dei miei piedi cento quattro via cinque sette sette otto stacco di nuovo in avanti allungo allungo anche se non andate tanto giù non è importante torno il braccio resta in terza l'altro in prima stop balance un po' più lunga prima giusto così e par contre l'ucatria e l'us uguale in quarta solo che facciamo il camore indietro uguale in quinta e facciamo di nuovo il camore indietro finito l'esercizio per voi che siete quasi tutte grandi quindi anche lei circonduzione all'edan circonduzione all'ero finiamo col quarto con l'edrata che ho ripassato ieri ok quindi vado testa allungo posizione lunga che cosa faccio del tournè giro dall'altra parte bene così quando faccio del tournè da così da una posizione che si dice allonge vado in una posizione che si dice arrondi in francese quindi allonge arrondi arrondi progress position prima posizione pronti pronti in francese Il corso di torno Il corso di torno Il corso di torno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.